5 maggio, il 5 del 5, di chi sarà il compleanno? Sì sì Giuliano, esatto Di chi sarà il compleanno? Esatto Grezzo Marco, grazie cuore per i tre mesi fratello, grazie cuore Forza, grazie a te, grazie a te di seguirci fratello, un abbraccione, un abbraccione Non è il compleanno di Ben 10 È il compleanno delle sorelle, delle quintuplette Nakano, delle gemelline Le nostre gemelline, mignottine Foskov, grazie cuore per i 15 bit fratello Ci bisogna, ripeto, l'ho già detto all'inizio live Oggi è il 5 maggio Bisogna fare un bel regalo alle 5 gemelline, gemelline, mignottine di Vintessential Quintuplets Quindi Fategli tutti quanti un meritato tributo Mi raccomando, una dedica, ecco, una firmetta Ecco